Sono molto contento del mio primo gol stagionale perché comunque lo cercavo da tanto. Era un anno e mezzo e comunque magari ci andavo vicino e oggi sono riuscito a fare il mio primo gol. Soprattutto anche i miei compagni, abbiamo fatto una grande partita e sono molto contento. Mi sono levato alla maglia, più che altro ero molto contento, non ci ho pensato. Prenderò la multa che mi ha fatto già il mister. Oggi è stato davvero bello, comunque c'erano 14.000 persone, quindi non mi ricordo adesso. Però è stato davvero bello anche perché aver giunto una vittoria importante e grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno dato una mano. Eravamo partiti molto bene, i primi 15 minuti aggressivi, volevamo far male loro sulle fasce. Ci stavamo riuscendo, però poi dopo il gol di Caprali non so cosa ci sia successo. Ci siamo abbassati e abbiamo accusato il colpo. Noi in questo momento guardiamo la realtà dei fatti, abbiamo 39 punti e cerchiamo di guardare avanti e fare più punti possibili in questo momento. Poi alla fine tireremo le somme. Luca, sabato ci sarà questa gara con la Ternano, una gara da vincere a tutti i costi. Sarà importante il sostegno del pubblico? Quel pubblico che oggi a fine partita vi ha chiamato sotto la curva e vi ha applaudito? Sì, i nostri tifosi sono stati strepitosi perché sono venuti in tanti per seguire questa bella partita. Adesso prepariamo la nostra partita per sabato cercando di fare i tre punti a tutti i costi.